Arte e Scienza. E' questo il nome della società creata da una cordata di imprenditori pesaresi che si presenterà domani, giovedì 26 maggio, alle ore 18.30 presso il Cinema Astra di Pesero. Si parlerà con tanti interlocutori, uno diverso dall'altro per contenuti e storia personale, di nuove forme di energia in perfetto rispetto dell'ecologia e della transazione ambientale verso nuove forme di approvvigionamento energetico. Nello specifico, Arte e Scienza si occupa di tecnologia all'infrarosso, con lo strumento delle radiazioni e delle onde elettromagnetiche prodotte in maniera naturale dal Sole. La loro capacità di emettere calore è infatti l'oggetto del prodotto che sarà presentato al convegno con dovizie di particolari e anche con un occhio più ampio, rivolto in generale in una forma energetica più ecologica e sostenibile, come ci spiega anche Fulvio Urbinelli, titolare dell'Astra, intervistato da Antonio Astuti. Io da un mezzo secolo che mi dedico a altre avventure di lavoro, però adesso questa è l'avventura nuova, che mi sono appassionato, vedendo i vantaggi che fa l'infrarosso. E siccome ho sperimentato sulla mia pelle, che i vantaggi sono notevoli, specialmente sul fatto salutare e risparmio energetico, quindi vi inviterei di non mancare a questa unica occasione che poi, col successo che avremo, la ripeteremo anche più avanti. Ma intanto, approfittate di questa occasione di non mancare. Sì, perché domani sera ci sarà occasione per saperne molto di più, ci saranno tanti relatori, ognuno racconterà dal suo punto di vista in cosa consiste l'infrarosso, quindi è davvero un appuntamento imperdibile. Sì, sì, noi siamo un gruppo di persone, di tecnici, fra l'altro, non io perché sono un commerciale, ma non sono un tecnico, che vi spiegheranno, per file per segno, i vantaggi su questo sistema infrarosso. Ripetiamolo quindi, giovedì alle 18.30 al Cinemast, la capienza c'è, sicuramente l'interesse dell'argomento è notevole, è veramente molto forte, quindi Fulio Urbinelli, un ulteriore appello, non si può mancare. Non si può mancare, è un'avventura, credetemi, che rimarrete alibiti.